Caro Limonov, cos'è la Russia? Se non un ubriaco, che cammina, su una banchisa gelata? Tu lo sapevi bene, mentre danzavi, sulla società russa, con un cuore ostico e bambino. Quali furono i confini, della tua ribellione? Ritieni ancora che tu fossi, il poeta migliore, patriota fino in fondo alle radici, di un pentagramma, dai svariati colori, la cui giovinetza, fu un fulmine che, a lungo alleggiò, sulle lacrime luminescenti della Siberia, certo che alla fine il seno materno, avesse almeno capito, il tuo candido livore, e lo abbia perdonato, una volta fuoriuscito, dagli occhi vincenti, di un tenero eroe. In sintesi, il testo è una riflessione poetica potente e ben costruita, che riesce a catturare l'essenza complessa di Edward Limonov e, attraverso di lui, della Russia stessa. Le immagini evocative e il linguaggio simbolico creano un ritratto affascinante e malinconico, in cui ribellione e amore per la patria si fondono, dando vita a un'opera densa di significati.